Piccolo battufolo di cotone le schede Allora voglio fare un piccolo gioco prima di salutarvi ragazzi Un piccolo esperimento Un gioco, facciamo un gioco A me piacciono molto i gioco Esatto, dato che in questa chat e su questo canale Twitch in generale Vi c'è sempre la regola del si scherza Si è la regola del si scherza Cioè dire si scherza dopo No, Agnese nel senso fare ironia, prendersi per il culo Fare le scenette eccetera eccetera Quindi voglio fare un... Sei bene piccola? No, sto male! Comunque voglio fare un gioco, ovvero Per dieci minuti in quarta d'ora Cioè facciamo fino alle sette Io risponderò alle vostre domande In maniera sincera, senza ironia Vi potete fare domande su quello che volete Su membri della chat, membri del gruppo Telegram, Youtube Lavoro, famiglia Quello che vi pare Hai mai tradito Agnese? No, poi? Sei felice nella vita completivamente? Sì, abbastanza Sdrumox cosa ne pensate? Penso che sia la persona Che insieme a Marco e a pochissimi altri Riescano a capire la mia ironia Ad abbracciarla E... Poiché è identica La loro ironia è identica alla mia No, io la vedo Siccome è un po' diversa dalla tua in realtà È un po' diversa È un po' più distruttiva Però è perfettamente in linea con la mia È più Giacas Soprattutto quella di Marco appunto Un po' più sullo stile Giacas Che fino ha fatto il video sul Re Leone L'ho eliminato perché la parte iniziale Ovvero quando parlo del cinema anni 90 È una delle cose più disinformanti e brutte Che abbia mai scritto e recitato Lerio cos'è per te la simpatia? La simpatia è reagire bene a ciò che ti sta intorno E cercare di capire Tutti i caratteri che appunto si avvicinano a te Ecco, posso fare un esempio pratico Chef per me proprio rappresenta la simpatia totale Perché è uno che entra subito in linea con le mie cazzate Scherza a sua volta Giocando sui miei paradossi eccetera Quando torna a casa la sua ragazza, le sue cari Non agisce come me Perché sa quando giocare e quando no E questa cosa l'apprezzo particolarmente Non ti tradirebbe mai E ci sarà sempre Quando hai bisogno di qualcuno E questa è proprio per me la simpatia Essere una persona gradevole Perché Pareri su un monitor È una persona Limpida A volte questa sua limpidezza però sfocia Nell'ingenuità E questa cosa lo frega Spero che prima o poi Posa capirlo Piove oggi a Roma C'è il sito Michi Lo sai Non so se sapete questa roba qua ragazzi Magari sì C'è un sito Ma cosa? C'è un sito che No 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 C'è un sito che si chiama Piove a Roma domani No piove oggi a Roma Piove domani a Roma Che se lo cliccate E domani Ah l'hanno Ci hanno messo più roba Prima ce l'ha solamente Sì o no Ora invece Cioè ci sono delle aggiunti Io non lo sapevo questa cosa Piove oggi a Roma Piove oggi a Roma Così Anch'io sì Cioè non faccio la youtube Però Sì Anche se mi dispiacerebbe Abbandonare tutto questo Perché Non per me Ecco Non mi dispiacerebbe per me Mi dispiacerebbe per voi Tantissimo Non so se riuscirei Se mi proponessero una cosa del genere Sicuramente ci rifletterei Non risponderei a cuore leggero Dovrei valutare mille fattori Compreso appunto Chi mi guarda Che comunque Mi seguo da dieci anni Ci dovrei pensare Devo dire una cosa E qui si parla Si estende un po' il discorso Ovviamente Non è che mi toglierei dai social Da telegram Farei come ha fatto Claudio Quindi manterrei il mio contatto Con il pubblico Ma allo stesso tempo Non mi vedreste più youtube Quella sarebbe l'inculata E Il problema di youtube Di twitch Eccetera Che sono cose Molto Molto labili E Io ho la partita IVA E Il mio futuro è ancora Ancora E ancora Più fragile Con questo mix Di fattori Ergo Se la panina mi contattasse E mi mettesse in un ufficio Per me sarebbe Una forma di sicurezza Estrema Perché potrei Avere un contratto Avere una stabilità economica Eccetera Adesso tecnicamente Sono precario È vero Guadagno bene Eccetera Però C'ho partita IVA E queste robe qui Se youtube finisse E se twitch finisse Cosa succederebbe Molti dicono Eh vabbè Ma ci saranno altre piattaforme Chi lo dice Nessuno lo può sapere Quindi Claudio per esempio Ha fatto così Mantiene ancora il suo rapporto Col pubblico Che per lui era fondamentale Perché aveva La mia stessa idea di youtube Però Allo stesso tempo Si è tolto da youtube Come ho conosciuto il chip Il chip l'ho conosciuto Da prima Nel suo negozio Quando aveva al negozio Perché Una compagnia di amici di Livorno I famosi bimbi dei Lido Mi portarono nel suo negozio E lo vidi Ma non è che ci siamo conosciuti Poi io ero piccolissimo Avevo 15 anni 16 anni Lui era già grandissimo Lui ha 10 anni più di me Quindi Lui c'aveva 26 anni Quando io c'avevo 16 Ci siamo conosciuti Quando mi assunsero Alla villa Del colle E Lì Io c'ero grandicello Quindi diciamo Il divario Generazionale Si era un po' appiattito Ci siamo conosciuti Ci siamo trovati bene Perché Ci garbano le stesse cazzate Diciamo così Il video del tour della casa Verrà Realizzato Effettuato Realizzato solo Quando ci saranno tutti i mobili Che voglio io Cosa ne pensi Noi abbonati Del gruppo telegram Io penso che Il gruppo telegram Sia una sorta Una sorta di Con tutti i paragoni Del caso Una sorta di 4chan Dove tutti Postano di tutto Conversano tra di loro Eccetera Il problema è che Secondo me Presenta i pregi Di 4chan E anche alcuni difetti Sono più pregi Dei difetti ovviamente I difetti sono che C'è tanto shitposting C'è Il cazzeggio Estremo Che a volte Può diventare offensivo Per alcuni E quindi secondo me Ci vuole A volte un pochino Più di freni Capito questo Siamo a posto Anche perché Da un gruppo Di 100-200 persone Adesso siamo 1.400 E quindi questa botta Diciamo che Molti nel gruppo L'hanno sentita Si sono fatti Prendere un po' la mano Insomma Vi è scappata un po' La frizione Ad alcuni In alcuni casi Non dico sempre Lo sto generalizzando Quindi bisogna Secondo me A volte rallentare Spero che Noi Io e I moderatori Ovviamente Cercheremo di Evitare questo E di mettere Dei paletti Quando serviranno Poi ovviamente Si cazzegge Tutto È solamente una cosa Che ho notato Ultimamente Dario Sei andato all'università Sì Mi sono laureato Basta Ma tanti anni fa Ormai Ti ha fatto simpatia Mangaka Molto Assolutamente Sì Me lo aspettavo Un po' Eh però Grazie a Camjay Sincere opinioni Di questa chat Guarda Claudio Poi estendere Il concetto Di telegram H a questa chat Lavorativamente Parlando Qual è il vostro Obiettivo più grande E quando pensate Di raggiungerlo Io vorrei intervistare Urasawa Ma non è una novità Insomma È quello che mi Pongo nella vita Poi va bene Anche così Poi mi trovo bene Anche così Non ho altri grandi sogni Agnese non lo so Cioè in realtà lo so Però lo dice lei Anni fa Due anni fa Il mio sogno Era quello di lavorare Per la Disney Che poi è stato realizzato Da lì diciamo che Non è che ho un sogno Specifico Del tipo pubblicare Con una casa editrice O lavorare per qualcuno Semplicemente vado avanti E ogni Ogni libro che pubblico Ogni illustrazione Che faccio Ogni casa editrice Che mi contatta Per me È un traguardo Però appunto Nel futuro Spererei Per il futuro Spererei di Non lo so Riuscire a guadagnare Di più Però in Italia Comunque a prescindere Da Cioè da chi sei I libri sono quelli Certo puoi chiedere un po' di più Se dico Se sei più famoso Eccetera Però non è che Guadagni chissà Quanto di più Per i fumetti Dovrei pubblicare Vorrei pubblicare in Francia Ecco questo Potrei dire Pubblicare in Francia Un fumetto però Come vivi Come vivi la diminuzione Della privacy Relativa al tuo Iniziare a streammare Su Twitch Questo è solo Non so domani Stimo molto Agnese Per aver accettato Questa tua scelta Che comporta comunque Dei sacrifici Siete una bella coppia Sono contento Il vostro matrimonio Diciamo che le Che la diminuzione Della privacy Più grande Ce l'ho quando faccio Le maratone Per Agnese Diciamo che per metà maratona Non c'è Perché giustamente Se ne scappa E che quindi La mia privacy Fondamentalmente Me ne batto anche i coglioni E poi in questo caso qui Quando faccio queste Live pomeridiane Che sono poche E ultimamente L'ho ma fatte Quindi mi importa una sega E quindi Sinceramente Di due ore Doposcena La diminuzione Della privacy Non la sento Ecco Poi non sono stato Uno Che è Che ha attaccato Morbosamente Alla privacy Racconto tranquillamente I miei cazzi Non ho problemi Non mi faccio Problemi a parlare Di Di alcuni argomenti Parlo un po' di tutto Non so E Poi la nostra privacy È un È un parolone Perché quando io Agnese Ci mettiamo a streamare qui A differenza A livello Che pensa qualcuno Siamo noi stessi Ma estremizziamo Un botto Cioè Estremizziamo tutte le nostre reazioni Le nostre cose Perché ci piace E fa viride E creare delle scenette Appunto Alla casa moccia Diciamo Quindi quelli che mi dicono Eh Dario è geloso Oppure O per maloso O Agnese È fastidiosa Perché deve fare la bacchettone Eccetera Devono secondo me Entrare nel mood Perché se venite qua Per vedere una situazione Di coppia veritiera Alla strana amore O a che cazzo ne so io Questo non è un reality Ecco È una forma di intrattenimento Per me è figa Perché è molto naturale Ho creato in discipline pittoriche Sono maestro d'arte In discipline pittoriche Ho avuto un pennello Da dieci anni Però vabbè Sì Ti sei mai veramente reso conto Che con il tuo lavoro E la tua personalità Hai aiutato tante persone Io posso anche Posso anche crederti E posso credere alle persone Che come te me l'hanno detto E io sono felice di questo Ma non lo so Così mi fate sentire Molto più responsabile Mi date più peso Di quello che in realtà ho Comunque è un discorso complesso Sì È un discorso complesso Perché secondo me Perché non sono un educatore No Però chiaramente Quello che dici Si ripercuote E molto spesso Su chi ti guarda Soprattutto se sono piccoli Che non penso sia questo Tanto il caso Perché Da quello che Cioè So Quelli che ti seguono Sono piccoli Diciamo che Se le mie live I miei video eccetera Vi rallegrano le giornate Vi stimolano a A uscire dal guscio Io non posso far altro Che esserne felice Però mi raccomando Non perdete mai Dai vostri idoli O dalle persone Che stimate Cercate anche Di essere sempre Voi stessi So che è un luogo comune Ma dovete farlo Perché se vi attaccate Poi a troppo A quelle figure Rischiate di essere Una cornucopia No No una copia Una copia Di Di loro Quindi Non va bene Cioè io Ci tengo a bestia Il legame che si è creato Tra di noi Lo coltiverò E lo sto coltivando E mi fa piacere Ripeto Se questo legame Vi aiuta Ma poi Lavoro grosso Aspetta a voi Tutto qua Che intrattenimento ragazzi 1200 persone A guardare Nulla E io Chiuderei La live Così ragazzi Fate a modo Mi raccomando Sempre Esghiete Mi è apparezzata Molto bravo Però Nonostante Succhi tutto Quello che c'è da succhiare Dalla mia persona È brava Succhi tutto